Hanno sentito i cani abbaiare tutta la notte, vuol dire che è stato ucciso proprio a notte, però era sveglio, aveva i scarponi fuori, era vestito con una camicia a quadri e è venuto sulla porta perché secondo me ha guardato dalla finestra ma magari tu capisci che se uno si mette qua si nasconde qua sotto. Ma facciamo un passo indietro, tutto è iniziato quando in internet ho trovato questa notizia. In sostanza nel Vicentino un boscaiolo che proteggeva la natura era stato ucciso da un colpo di fucile a pallettoni sulla porta di casa. E così mi sono chiesto chi era veramente Mauro Pretto, questo remita dal cuore d'oro che proteggeva il bosco e salvava gli animali e così ho deciso di andarlo a scoprire. Ho quindi contattato il fratello che mi ha portato nella casa dove abitava Mauro e dove è stato ucciso. Lì abita il ragazzo che l'ha trovato, il ragazzo serbo che l'ha trovato alla mattina dell'omicidio e che dovevano trovarsi alla mattina per fare dei lavori e l'ha trovato lui. Questa è la strada che comincia, che arriva su nella casa e poi da lì va nei posti. la sua vita era qua e veniva giù da me in magazzino negli ultimi due o tre anni, darmi una mano, una mezza giornata per prendere qualcosa, se no la vita era completamente qua. Dal lunedì al lunedì, sabato, domenica, natale, ogni tanto qualcuno veniva su. C'era gente che veniva a cacciare a quello che io so che mi raccontava, ha tagliato più di qualche trappola, con flessibile mio, su qua, e ha trovato parecchia gente anche alla notte che passava, che girava perché, come vedete il posto, però c'è un'altra cosa da dire, chi veniva qua sporcava il bosco, e quello a lui non gli andava giù, e sai che l'altra era un po' foccoso che aveva, probabilmente a qualcuno gli avrà detto qualcosa di troppo, magari anche quella notte. Questa era una casa che aveva fatto lui e dentro qua aveva tre cani, di cui uno dei tre cani, quella notte ha rotto la catena, diciamo che lui viveva qua, dove vedi qua, in su, e in cinque anni è rimasto praticamente tutto così. quello lì che vedi, quel motocarlo lì, che gli serviva per trasportare la legna, i sassi, la terra, ok, qua è tutto abbandonato, come qua dentro c'era un po' di ferramenta sua, e qua, e questa è la casa, lì è la porta, e qualcuno da qua gli ha sparato, ok. C'era anche una vespezza sua qua, vecchia, e l'hanno portata via, l'hanno rubata. E qua c'erano, non so se volete vedere la finestra, ma io fino a qua sono arrivato. La porta è aperta, se volete guardare voi, ma io sinceramente ero, è socchiusa. Da ragazzo, 15, 16, 17 anni, era praticamente un terremoto, ok. Difficile da gestire sotto tutti gli aspetti. Non cattivo, ma uno che le regole non le rispettava neanche a pagarle oro, ok. Dopodiché ha lavorato con me, ma litigavamo, insomma, vabbè. Fino a un certo punto ha trovato la sua strada nel bosco, negli Animai. E da lì, a 25 anni, 26 anni più o meno, è venuto a vivere su qua. E qua ha trovato quello che probabilmente Giù non trovava. Giù comunque sempre con carattere difficile, perché... Però, logicamente, è una persona completamente diversa. Negli anni qua è cambiato completamente, perché ha trovato la sua dimensione. e dopo di che, per anni, è andato avanti vivendo, sì, di quello che trovava, insomma, di quello che faceva, boschi, legna... E poi negli ultimi anni gli davo da lavorare. Io qualche mezza giornata veniva a darmi una mano, pulire il magazzino, sistemare, fino alla famosa notte del 12 di maggio del 2017. Ha fatto parte anche dei gruppi motociclisti negli anni, però non aveva mai trovato la sua quadratura. La trovata solo qua, con gli animali, con quello silenzio del bosco e qua dietro e basta. Io non condividevo, vivere su qua non è semplice. Non è semplice perché sei fuori completamente dal mondo e comunque devi vivere in qualche maniera. Più se hai 4, 5, 6 cani da mantenere, non è che i cani vivono d'aria. Perciò qualcosa bisogna fare, ma lui si inventava i lavori, si inventava parecchio. Era uno dinamico, uno che riusciva a fare un po' di tutto questo discorso. Solo che i tempi sono cambiati, non si poteva più fare quello che lui voleva e ha dovuto adattarsi a venire a lavorare con me per 2-3 anni. Così aveva dei soldi fissi che la maggior parte li usava solo per comprare e mangiare i cani. Allora noi abbiamo avuto parecchie discussioni, sia a livello di lavoro che a livello di gestione della vita qua. Ma ti dico anche che se lui aveva 100 euro, a te te ne dava 90 e a lui gli bastavano i 10. Perché non ha mai fatto una questione di soldi, mai. non aveva debiti, perché non aveva debiti e già questo giorno d'oggi è già essere signori. Quando lui aveva i soldi necessari per darla a mangiare agli animali o al cavallo che aveva, poi aveva un paio di sommarelli, aveva le capre. Lui era più che a posto. Io ti dico per sentito dire, perché lui personalmente a me non ha mai detto niente, però quelli che lavoravano con me in magazzino mi hanno detto che ha avuto discussioni con una persona che dietro qua aveva preso un bosco, ok proprio dietro qua, ha comprato tutto il bosco e questo gli aveva chiesto a lui di dargli una mano per tagliare il bosco e lui mi ha detto guarda che per un mese o due io non vengo a lavorare perché devo dargli una mano per tagliare il bosco. Cosa è successo? Che dopo un giorno o due hanno litigato perché secondo lui le piante venivano tagliate troppo alte e lì lui si è incazzato con il suo carattere e gli ha fatto bloccare tutto, è andato dalla guardia boschi, adesso guardia caccia se non so chi sia andato, gli ha fatto bloccare tutto e questo qua non ha più tagliato praticamente per un periodo. A un tempo dietro aveva sentito qualcuno che gli aveva sparato sopra la testa giù in valle qua, poi qua nei boschi intorno lui mi aveva chiesto un flessibile e è andato a tagliare delle trappole. perché non accettava questo modo di cacciare, anzi non è che accettasse proprio la caccia, mettiamola così, però se la legge ti permetteva di andare a cacciare lui doveva attaccare. però dopo tanti cacciavano, sparavano e buttavano le cartucce per terra e trovavano i boschi qua in giro e questo gli rompeva un po' i maroni insomma perché il bosco doveva essere tenuto pulito. Magari quella sera qualcuno passava di qua, visto che la caccia al cinghiare era stata, erano un mese che era partita di notturna e magari ha trovato qualcuno che o che già gli aveva detto qualcosa ma questa è una mia idea anche perché ripeto, per venire qua se tu non conosci non ci arrivi. punto, cioè qua faccio fatica io ad arrivarci, perciò qua insomma come ho già detto anni fa presumo che non serve andare tanto lontano da qua ecco. poi altri nemici, c'è una persona così, c'è più di una paroia che può aver detto a uno ma non penso che per una paroia tu amarti una persona, cioè qualcosa di… probabilmente o ha visto qualcosa quella notte oppure c'era qualcosa da tempo che veniva covato da parte di qualcuno. bisogna capire una cosa, che tu queste cose le vedi solo sui film, ok? e quando ti toccano a te sembra impossibile, ok? che possono succedere perché dici ma come una roba del genere? poi ti abitui, io ho tre figli piccoli tra parentesi, all'epoca erano ancora più piccoli perciò ho dovuto difendere loro da tante cose e io sono uno che non mi piace apparire in televisione o fare… in effetti non ho mai cercato di fare altre cose proprio perché… ma anche perché lui non mi avrebbe tirato il collo se sapeva che gestivo la sua morte in maniera così scenica no? ed è il mio modo di ragionare ma da sempre come era il suo modo insomma… logico che ti manca… io vivo a 50 km da qua, 40 km da qua… perciò non è che… gli ultimi tempi ci vedevamo quasi tutti i giorni perché veniva a lavorare da me… appunto… però mi manca… ma più che altro mi manca sapere chi è stato, capisci? quella è una roba grossa… non è… cioè mancare una persona si ti manca ma anche se… magari stavamo anche per 6-7 mesi senza vederci no? anche per un anno perché io qua non ci venivo quasi mai… però tu non puoi uccidere una persona e lasciarla sulla porta ad entrata in quella maniera… cioè non esiste… cioè c'è una persona qua in giro… ok ripeto qua in giro non so dove… che ha ucciso un altro senza un motivo valido… a parte che non c'è mai un motivo per uccidere una persona però… e logicamente io fino adesso non ho mai… non mi sono mai chiamato in parte perché speravo che le indagini andassero in maniera diversa… in maniera diversa non sono andato… adesso ho dato mandato a un avvocato per esaminare tutti… tutti gli atti per capire… per capire soprattutto se è stato fatto quello che doveva essere fatto… e così oggi a quasi 6 anni dalla morte di questo ragazzo che aveva deciso di vivere da solo sul limitare del bosco e di difendere la natura e i suoi abitanti non è ancora stato trovato un colpevole che come sostiene il fratello potrebbe trattarsi di un bracconiere di quella zona…